Ciao ragazzi, ci troviamo qui al ponte tibetano, a Marano, nella Val Sorda, guardate che... davanti a noi abbiamo la Miri, abbiamo andato avanti, è una roba... troppo bello, adesso vi farò vedere dall'alto come siamo in alto, guardate quanto siamo alti... è una meraviglia di posto... un tanto più vigero... bene ragazzi andiamo via dal ponte tibetano che sta cominciando a piovere... noi siamo venuti solo per farci un giro su e mangiare... alla fine mi funziona e siamo venuti di pazienza... ora per me andiamo... vi faremo vedere questo posto meraviglioso... vi faremo vedere questo posto... un tanto più piccolo... non ci siamo venuti... non ci sono due mesi... 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 ci sono due mesi... non ci sono due mesi... ragazzi... sono una meraviglia... fa troppo troppo bella... mi raccomando... se soffritti di vertigine non è per voi... Grazie a tutti. Sentite l'uscello come viene giù, il cartello non si riesce ad andare più giù, una volta si poteva andare, adesso non ha messo la retta e non si può. Guardate questa gradinata, ora è tutta in salita, prima era tutta in discesa ma adesso c'è da fare anche le arrampicate qua. E ciccio, fatta la veri, non è che ce la fai su. Che spettacolo questa natura, ponte tibetano Marano Verona, fatte la veri lì. Un'assice rocione, queste piante secolari, guardate quanto sono alte. Guardate com'è ripido ragazzi, mi raccomando scarpe da trekking non infradito come abbiamo visto. Si intravede la meri lassù, fatta. Sì amore, com'è dura lassù? Assù tocca a me. Ora ragazzi tocca a me. Ragazzi, ma c'è una pace, si sente solamente l'uccegio e l'acqua. Ora abbiamo fatto una piccola pausa sulla panchina sul bel venere Dopo riprendiamo il sentiero che è mezz'ora, 35 minuti per andare giù Quindi ve l'allunga per essere un pochino abituati perché è un po' ripido Poi dal ponte tibetano possiamo proseguire ancora a fare un altro sentiero Ma chi lo vuole fare Poi ci mette anche acqua tra un po' sta già cominciando a pioviginare Abbiamo la moto un po' distante da qua quindi bisogna pedalare per tornare su Guardate che meraviglia Non so nel video si sente l'acqua ma è una meraviglia da qua su dal bel venere Andiamo al sentiero Vedete com'è il sentiero Quindi infraditto e dimenticato avevo scarpe da trekking Il mio amore con il suo bastone Se li stanno bene perché non mi piace È troppo bello questo sentiero qua Questo sentiero qua è troppo bello È troppo troppo bello Mi manca un po' il piatto Non da tanto senza farlo Ieri abbiamo fatto altri 10 chilometri Devo rimettere un attimino anche io È più smaltissimo perché è mai morto Guardate Che bel sentiero Sì sì anche a me piace tantissimo qua Io andrei a fare di nuovo il sentiero degli alpini lì su a Molveno Il rifugio a Crozza Guardate che meraviglia queste piante Guardate È una meraviglia Guardate che spettacolo Che ne pensate di questo sentiero ragazzi? Se vi piace Commentate A me ci fa sempre piacere leggere il film La natura Guardate qua C'è una grotta Prova a cucinarla Ma C'è una grotta Ma C'è una grotta Massa C'è una grotta E' una grotta L'uva L'uva Dove fai tu? Comuncia a piovere ragazzi è fortuna che siamo un po' sotto le piante e non ci vuole niente e non è che ancora un po' arrivare Guardate che gradinata sta un po' di foschia perché sta piovendo manga bianca guardate mannaggia che sta piovendo ragazzi questo è il sentiero per passare guardate questo è il sentiero bisogna attaccarsi l'arampicatore passare così la mira guardate che roba dove si passa legge dei cinghiali guardate la mira per salire guardate che fatica guardate guardate bisogna salire come amore bello è dura guardate guardate come bisogna venire qua con i scartini con i scartini guardate 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 come 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 guardate guardate il sentiero è Questa è un altro pezzo di sentiero Come cinghieri Guardate che burrone, non so se posso, qui non si vede, ma vi assicuro che è abbastanza alto. Vedete che è tutta affarrata per il sentiero, quindi tranquillo che si attacca qua. Guardate che arriva. Arrivo, arrivo. Bevo. Monte Tibetone, accesso a sud. L'acqua sono 15 minuti e ti rompo. Qui c'è il Pogoli di Marano, il Marga Biancari, il Morin di Arcao, e qua c'è l'Amane. Il sentiero della Val Sorda. Il Corso. Guardate questo altro pezzo di sentiero. Guardate ragazzi, come i cinghiali qua. C'è bisogno di sarrampicarsi qua. E' arrivato? Non so se arrenda l'Aguapro, guardate. Guardate dove dobbiamo camminare. Guardate dove stiamo camminando. Guarda un po' il sentiero. In mezzo alle rocce. Uila! Ragazzi, stiamo per arrivare. Comincia a piovere. E c'è il sole fuori. Ma come si può? C'è il sole fuori e piove. E' un po' faticoso. Lo ammetto. Siamo abituati a camminare, però era da tanto che non facciamo questo sentiero. E' tosto. Siamo quasi arrivati. Allora. Adesso il sentiero è tranquillissimo. Andiamo per entrare dove abbiamo parcheggiato la moto. Che c'è anche un piccolo rifugio. Dove si può mangiare panini preparati dall'oro. C'è il vinello. Ci sono le bibite. Ci c'è il caffè. Ci sono i bagni. Peli puliti. C'è la fontanella dell'acqua. Ci sono parecchi barbe con tavoli. Dopo ve lo faremo vedere. Da qua parte il sentiero. Vedete indossare scarpe da montagna o da trecchie. I sentieri sono scivolosi. Hai una barraccia d'acqua nel cibo? Attenzione. Carenza segnali telefono. Qui si avrà fatto le carte fotografie. Siamo arrivati al Parco Natolare regionale dell'Alessia. Vedete com'è? Ecco ragazzi siamo arrivati alla moto. Non mi vede che l'ha fatto colendo qualche volta di wasabi. Ecco ragazzi siamo arrivati qui al Parco. Nel fondo ci sono due barbe con tavoli. Qui in fondo si può mangiare, bere. Quello che vuole. Sto vado più vicino. Da contarese. Qua si può costare a mangiare da bere. Ci sono i bagni. Barbecue. E qua il tavolo. Molto facile. bene ragazzi è qui nel parco ponte tibetano vi salutiamo vi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto lasciate un commento sempre ben accettato va bene ciao ragazzi alla prossima